Due giorni fra abbiamo giocato contro Sora e abbiamo preso tre punti per la nostra classifica. In domenica aspettiamo una partita contro Padova. È una partita difficile perché secondo me loro giocano abbastanza bene nella sua casa, però noi siamo pronti, lavoriamo molto bene in allenamento e abbiamo una grande motivazione per vincere perché abbiamo perso nella sua casa in prima parte nella stagione. Dobbiamo cercare e dobbiamo dare il nostro migliore perché questa partita è molto importante per noi. Adesso siamo a tre punti di distanza dal playoff e abbiamo una buona possibilità di andare avanti perché possiamo fare un buon risultato e vincere in domenica. Grazie. 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 Grazie.